Ciao, sono la Lollins e sono un'illusionista di Varese. Visto che faccio cartomagia, volevo aggiungere una cosa a collette da Mariano nello scorso episodio. Ti ricordi il cerchio di numeri da 1 a 15? Ecco, nel monosco del 500 si dice proprio che l'effetto può usci far con carte, ovvero si può fare con le carte. Ed è una decisione fantastica, geniale, perché praticamente dice che mentalismo e cartomagia possono condividere gli stessi metodi. Pensate che in America lo chiamano Abbonstein e sono convinti di averlo vedo loro. Ma in realtà è un gioco italiano nato circa 500 anni fa. Beh, te lo dimostro facendo lo stesso effetto ma utilizzando le carte. Quindi stoppa il video e procurati 10 carte dall'asso al 10 di un qualsiasi seme e metti in ordine facile in modo che l'asso sia l'ultima carta del mazzo. Una volta che hai fatto, pensa a un numero da 1 a 10 e, iniziando a contare dal numero successivo a cui ho pensato, porta sotto il mazzo una carta alla volta. Per esempio, se hai pensato 7, conta 8, 9 e 10. E così via. Però aspetta a partire. Sono le 20. Sento che il tuo numero si troverà in cima al mazzetto non appena avrai portato sotto la carta numero 20. Se ho indovinato, ti aspetto domenica 20 settembre 2020 alla Masterclass di ASSOK. Io e Mariano otterremo insieme una lezione combinando mentalismo e cartomagia. Quindi cosa fai? Ti aspetto! Ciao! Ciao!